la prossima ospite della prossima puntata di stories e serena rossi ciao ciao serena allora a breve ti vedremo in beata te ok storia di una donna quarantenne a cui diciamo compare appare l'arcangelo gabriele ok per fare un annunciandole una possibile maternità possibile il titolo beata te è una possibilità possibilità a cui la protagonista che tu interpreti dice ci posso pensare un attimo un attimo qualche giorno e nel casting uno dice come avete scelto l'arcangelo gabriele no allora uno dice avete preso chris hansworth biondo occhio azzurro uno tipo brad pitt pure poteva essere un po più a gemma comunque con un certo o che ne so avete preso un un brunone come chalamet si stava e voi avete scelto fabio balsamo fabio balsamo fabio balsamo che diciamo con un accento un po spagnoleggiante poi scoprirete anche il perché ti accompagnerà da quest'arcangelo mille colori questa saggezza questo cinismo e questa dolcezza infinita mi accompagnare in questi 14 giorni di indecisione sul voler diventare mamma o meno se ne volete sapere di più potete guardare l'intervista l'intervista e poi il film quando sarà e poi il film quando quando uscirà guardare l'intervista 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 l'intervista